gli affidi omoculturali, non omoculturali e anche capire eventualmente se questo tema dell'affido o comunque dell'ospitalità familiare fosse uno strumento che permette anche un po' di bypassare quel tema del passaggio alla maggiorità, quindi se poi in qualche modo c'è un modo per protrarlo oltre i 18 anni oppure se ci sono degli interventi o dei progetti per fare in modo che l'ospitalità familiare in qualsiasi modo la si voglia costruire sia una delle possibilità di prosieguo della permanenza legale e accompagnata sul territorio dei minori stranieri non accompagnati.